Ciao a tutti da Vittorio, si è conclusa la terza giornata del nuovo format della Champions League. Come sapete ci sono 5 italiane qualificate per la Champions quest'anno. Come è andata la terza giornata delle italiane? Beh, dobbiamo dire che nonostante non ci fosse nessuna avversaria big che giocasse contro le italiane perché la Stonvilla è una buona squadra ma non è sicuramente il Manchester City, così come lo Stoccarda è una buona squadra ma non parliamo del Bayern Monaco, nessuna delle 5 italiane impegnate in Champions League affrontava una big. E nonostante questo possiamo dire che lo score totale delle italiane in Champions è tutt'altro che positivo, mi passate questo termine, perché su 5 hanno vinto Inter e Milan, quindi le due squadre di Milano hanno vinto, ha perso sorprendentemente in casa la Juve, oltre che il Bologna che potevamo aspettarci una sconfitta contro la Stonvilla e ha pareggiato in casa l'Atalanta contro il Celtic, una partita obiettivamente alla portata dei Bergamaschi, Atalanta che ha tirato tanto nello specchio della porta ma non è riuscito a trovare il gol vittoria. E quindi su 5 squadre l'Italia porta a casa 7 punti e di questi 7 punti l'Inter ha trovato il gol vittoria al 93, quindi tempo di recupero. Per carità l'Inter ha anche sbagliato un rigore e quindi diciamo che i Nerazzurri avrebbero meritato la vittoria, però nel calcio puoi meritare di vincere ma se non segni, se non trovi il gol vittoria, porti a casa un parencio. E quindi bisogna dire che la giornata di Champions è stata tutt'altro che positiva. Sicuramente bisogna anche ammettere che la Juventus era in difficoltà con tanti infortuni, Simone Zaghi ha giustamente pensato al turnover anche perché domenica sera c'è un match fondamentale, in Serie A c'è Inter-Juventus, partita che in chiave scudetto può essere importantissima per tutte e due le squadre. Però anche il cammino Champions è importante per le italiane. Non è un mistero che l'Inter quest'anno sembra più focalizzata sulla Champions che sulla Serie A, non è un mistero che la Juventus vorrebbe andare più avanti, possibile in Champions, discorso simile per i rossoneri del Milan. Milan che ha vinto è forse stata la prova più convincente delle italiane, anche se è vero che i rossoneri hanno giocato in superiorità numerica per gran parte della partita, nonostante questo si sono ritrovati addirittura in parità. L'uscita di Leao, per assurdo, ha cambiato il match dei rossoneri e ha regalato al Milan i tre punti. Del Bologna, possiamo parlare veramente, la Stonvilla è incredibilmente in testa alla classifica di questo nuovo format della Champions League, con tre vittorie in altre tante partite. Ricordiamo che la Stonvilla in casa ha battuto anche il Bayern Monaco. Un altro dato incredibile della Stonvilla è che non hanno ancora subito gol in questa Champions, per cui la Stonvilla sta andando benissimo. Dal Bologna si sperava qualcosa di più, ma onestamente il Bologna ha fatto il suo. La delusione più grande arriva dalla Juventus, che in casa contro lo Stoccard doveva portare a casa i tre punti, invece ha perso in maniera meritata. Anche qui si può fare il discorso dell'Inter, il gol vittoria dei tedeschi è arrivato allo scadere, è anche vero che lo Stoccard è stato annullato un gol, che ha sbagliato un calcio di rigore, insomma, lo Stoccard ha dominato e meritava di vincere. Però, come vale per l'Inter, no, se non segni puoi dominare, ma pareggi la partita. La Juve preoccupa perché non tira mai nello specchio della porta. L'Atalanta, invece, preoccupa perché Celtic è una squadra decisamente alla portata delle italiane e l'Atalanta, nonostante una buona partita, non è riuscita a trovare la via del gol. Ecco, i Bergamaschi sono protagonisti di un inizio di stagione particolare, altalenante, in alcune partite devastanti, in altre in grande difficoltà. Anche qui, sicuramente, la situazione di Fortuni sta limitando molto la squadra di Gasperini, però io mi ricordo, tanto per fare un esempio, lo scorso anno Lazio-Celtic, la Lazio che vince 2-0 e molti dicevano, eh vabbè, ma col Celtic vincono tutti. Beh, ieri è la riprova che col Celtic non vincono tutti, che in Champions League e in generale in Europa ogni partita è complicata, ogni partita è difficile da vincere. E quindi non bisogna mai sottovalutare l'avversario. Celtic lo scorso anno era una bella squadra, lo è anche quest'anno. Certo, le italiane, se giocano contro una squadra scozzese, partono favorite, però poi bisogna vincere e non è dato, non è scontato vincere contro il Celtic, che è una squadra che ha una grandissima esperienza internazionale, perché ogni anno praticamente si qualifica per la Champions League ed è un avversario tosto, come dimostrato ieri sera dall'Atalanta. L'Inter aveva sulla carta l'avversario più facile. Gli Young Boys sono una squadra storica, quelli della mia generazione si ricorderanno le sfide con gli Young Boys negli anni 80-90, squadra decisamente più forte in quegli anni rispetto ad esso. Inzaghi ha varato un turnover importante, le risposte dalle cosiddette riserve non sono state fantastiche. Arnautovic va in rigore, ma è stato necessario un tour ham per sbloccare la partita, regalare tre punti importantissimi per l'Inter. Perché poi, se andiamo a vedere la classifica di questo nuovo format della Champions League, scopriamo che nelle prime otto, ovvero le squadre che non dovranno fare il playoff per passare il turno, c'è solo l'Inter. E questo è un dato preoccupante. Ci sono tante sorprese, vi dicevo la Stone Villa, però nelle italiane c'è solo l'Inter e questo è un piccolo campanello d'allarme. È vero, mancano cinque partite di Champions League, però al momento passaggio del turno automatico ce lo ha solo l'Inter in tasca e questo evidenzia come le squadre italiane stanno facendo fatica in Champions League. Al momento infatti la Juventus e l'Atalanta andrebbero al playoff, la Juventus con sei punti perché ha vinto le prime due e ha perso l'ultima, l'Atalanta con cinque punti perché i bergamaschi sono imbattuti ma hanno vinto solo una partita, queste due squadre andrebbero al momento al playoff, che è una partita in più, in un calendario super fitto, in una stagione con tante partite, evitare una gara in più sarebbe importante. Però vedete che per adesso c'è l'Inter qualificato direttamente, Juve e Atalanta che devono fare il turno preliminare e Milan e Bologna fuori. È vero che il Milan con due sconfitte e una vittoria è fuori per differenza reti, però è comunque fuori, mentre in Bologna è fermo a un punto e quindi al momento la situazione Champions League per le italiane è tutt'altro che brillante. C'è tempo, mancano ancora cinque partite, il Milan può invertire la rotta, anche se il calendario dei rossoneri non è proprio bellissimo perché il 5 novembre, quando si tornerà a giocare, il Milan andrà a Madrid a giocare contro Real Madrid. Forse la partita più complicata dei rossoneri da qui in avanti. La Juventus va in Francia a giocare contro Lille, decisamente avversario non facile, ma sicuramente più abbordabile del Real Madrid, mentre Bologna ospita il Monaco. Anche l'Inter avrà un avversario complicato perché l'Arsenal arriva a Milano, l'Arsenal che sta lottando per il titolo in Premier League, mentre l'Atalanta andrà in Germania a giocare contro Stoccarda. Ecco, prossima giornata complicata, decisamente sulla carta più difficile di questa, vedremo se le squadre italiane riusciranno a invertire i pronostici. Per il Milan mi sa che è durissima, ma un pareggio contro Real Madrid sarebbe oro colato. L'Inter in casa contro l'Arsenal deve cercare i tre punti, ma sarà tutt'altro che facile. E tu che ne dici dell'italiano e chi passerà il turno in Champions League? Scrivono e mi metti qua sotto. E se ti è piaciuto questo video, metti mi piace. Grazie.